nel corso della storia l'umanità è stata ossessionata dall'idea di vivere per sempre prendete per esempio cinci one il primo imperatore della grande cina riunita durante il suo governo circa nel 250 avanti cristo iniziò a lavorare su quella che poi divenne la grande muraglia cinese ma il primo imperatore era anche ossessionato con l'eternità inviò interi eserciti alla ricerca del favoloso elisir di lunga vita una magica bevanda che gli avrebbe permesso di vivere per sempre se tornavano mani vuote venivano puniti e gran parte dei soldati non tornarono mai più a causa della sua ossessione per l'eternità l'imperatore iniziò a lavorare anche alla sua città di sepoltura all'età di soli 13 anni riempì delle enormi caverne sotterranee intorno alla sua tomba con delle repliche della corte pensando che in qualche modo lo avrebbero servito nel mondo nuovo gli archeologi hanno trovato più di 8.000 statue di terracotta a misura d'uomo di musicisti truppe di acrobati culturisti soldati e cavalli a guardia della sua tomba non ce n'erano due uguali si pensa che ci siano voluti circa 700 mila lavoratori e circa 38 anni per completare questa meraviglia cinci one purtroppo morì a soli 49 anni evidentemente per avvelenamento da mercurio beve un cocktail strano datogli dai medici che gli avrebbe teoricamente permesso di vivere a lungo molti altri nel corso della storia si mesero alla ricerca di questa ingannevole acqua di vita si narra che alessandro magno trovò un fiume paradisiaco guaritore nel quarto secolo avanti cristo altri si imbarcarono in imprese epiche alla vana ricerca del sacro graal il mitico calice dell'ultima cena che avrebbe dovuto donare la vita eterna a chiunque bevesse acqua da esso il navegatore spagnolo juan pons de leon sentì dire dai nativi di porto rico che esisteva un'isola chiamata birmania che aveva una fontana della giovinezza oggi gli scienziati hanno assunto un approccio più pragmatico compiendo esperimenti con le cellule staminali e l'ingegneria genetica nel tentativo collettivo di rallentare fermare o forse persino invertire il processo di invecchiamento affrontiamolo siamo tutti pre programmati per autopreservarci sareste quindi interessati se vi parlassi di un metodo attuabile per aumentare la durata della vostra vita non di 20 o 30 anni ma per sempre sapevate che la bibbia parla davvero della fonte segreta della giovinezza è vero gesù ha detto chiunque beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna in realtà alla fine della bibbia gli uomini vengono invitati a bere di quest'acqua viva e lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni a chi ha sete venga e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita beh amici è vero e la bibbia insegna che dio vuole profondamente darci questo dono della vita eterna ma forse pensate che ci debba essere un trucco come si riceve esattamente questo dono gratuito nei prossimi minuti condividerò con voi cinque passi pratici che potete fare che metteranno la vostra portata le chiavi della vita eterna cosa farne dipenderà da voi passo 1 primo dobbiamo riconoscere ovviamente che c'è un problema la morte la malattia il terrorismo il dolore nulla di tutto ciò faceva parte del piano originario di dio nel mondo intorno a noi vediamo che infuria una battaglia spirituale tra la luce e l'oscurità il bene il male ciò che è giusto e ciò che è sbagliato il tutto ebbe inizio moltissimi anni fa quando la più alta creazione di dio un bellissimo e potente angelo chiamato lucifero attualmente meglio conosciuto come satana si infiammò di gelosia era infastidito perché non poteva avere tutto il potere di dio fu allora che portando avanti una chiara campagna di diffamazione lucifero guidò un terzo degli angeli di dio a ribellarsi completamente contro il creatore satana riuscì a convincere i primi esseri umani a non credere e a disobbedire a dio quindi involontariamente misero il dominio del mondo nelle mani del diavolo il nostro meraviglioso pianeta fu sequestrato da un capo maligno dalle sue forze che riempivano il mondo col loro spirito peccatore ed egoista ma dio mandò suo figlio fatto uomo sulla terra per guidare salvare alla fine redimere coloro che sarebbero fidati di lui siamo tutti peccatori perché tutti hanno peccato sono privi della gloria di dio vale per voi vale per me noi tutti come pecore eravamo erranti ognuno di noi seguiva la propria via e l'eterno ha fatto ricadere su di lui gesù iniquità di noi tutti che si tratti di mentire rubare o pensieri maligni abbiamo tutti infranto una legge d'oro la legge dell'amore di dio meglio conosciuta come i dieci comandamenti i principi della legge di dio hanno lo scopo di proteggerci e assicurarci una vita di pace e sicurezza la bibbia ci rivela che la punizione per aver infranto la legge di dio è la morte perché il peccato per natura ci separa da colui che ci dà la vita parole poco gentili dette o azioni compiute della vita che hanno offeso gli altri o persino noi stessi dio ci chiede di riconoscere di essere peccatori così da poter fare il passo successivo il secondo passo verso l'eternità è credere di poter essere salvati questa è la buona notizia della salvezza un carceriere romano un giorno chiese all'apostolo paolo cosa devo fare per essere salvato paolo rispose credi nel signore gesù cristo e sarai salvato credere in cristo significa credere in chi è il figlio di dio e salvatore del mondo e affidargli la nostra vita a differenza vostra e mia gesù ha condotto una vita perfetta senza percato per fede non ha mai infranto nessun comandamento di dio ora si offre di prendere su di sé il nostro carico di peccati in cambio della sua vita perfetta è letteralmente morto al vostro posto affinché voi poteste vivere per sempre in paradiso senza peccato gesù ha sofferto al vostro posto per i vostri peccati così che voi possiate essere perdonati dovete accettarlo per fede chi crede nel figlio a vita eterna non è semplice credete in questo messaggio di speranza che gesù vi sta offrendo proprio ora il terzo passo per ricevere il dono della salvezza sta nel confessare e pentirsi dei propri peccati dire a dio che ci dispiace la bibbia dice chi copre le sue trasgressioni non prospererà ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia gesù ha anche detto a meno che non vi pentiate morirete tutti allo stesso modo pentirsi significa scegliere di allontanarsi dalla vita di peccato che porta all'autodistruzione e fidarsi che dio ci aiuterà a farlo significa onorare i comandamenti di dio con la mente con il cuore con le azioni lasci l'empio la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri e ritorni all'eterno che avrà compassione di lui al nostro dio che perdona largamente una persona che si pente davvero dispiaciuta per aver peccato e rivolge il suo cuore a dio il signore ha promesso di dare la forza che trasforma dallo spirito santo metterà dentro di voi un cuore nuovo è una mente nuova dio non si aspetta che vi ricordiate di chiedere perdono per ogni peccato che avete mai commesso rivolgetevi semplicemente a lui nel nome di gesù e confessate volontariamente di aver infranto la sua legge magari ci saranno delle cose specifiche che lo spirito santo porterà la vostra attenzione ditegli che vi dispiace chiedetegli di lavare via i vostri peccati quando lo farete la bibbia dice che potete essere sicuri che vi perdonerà se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci peccati e purificarci da ogni iniquità volete per favore aprire ora i vostri cuori al signore e confessare i vostri peccati e poi credere che vi ha perdonato la vita eterna ci siete quasi il quarto passo verso l'eternità consiste nell'accettare volontariamente gesù cristo come salvatore personale cristo ha detto ecco io sto alla porta e busso se qualcuno oda la mia voce ed apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me riceverete riceverete cristo se lo pregherete e lo inviterete a entrare nel vostro cuore questo è il dono incredibile che dio vi fa poiché dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna ma ricevere cristo vuol dire anche qualcosa di più significa anche fidarsi delle sue istruzioni della sua influenza nel guidare la nostra vita e le nostre azioni uno è in cristo egli una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco tutte le cose sono diventate nuove volete ora ricevere gesù nella vostra vita e dargli il permesso di dimorare presso di voi ora è il momento migliore glielo chiederete pregate con sincerità questa semplice preghiera e rivedete i passi che abbiamo appena fatto caro dio so che ho infranto le tue leggi e i miei peccati mi hanno separato da te credo che tuo figlio gesù sia morto per i miei peccati sia risorto dai morti sia vivo in cielo e ascolti le mie preghiere mi dispiace davvero per i miei peccati passati e ora voglio rivolgermi a te e allontanarmi dal peccato per favore perdonami aiutami a camminare in una nuova vita invito gesù a diventare il signore della mia vita a governare regnare nel mio cuore da questo giorno in avanti per favore manda il tuo spirito santo per aiutarmi ad obbedirti a fare la tua volontà per il resto della mia vita e prego queste cose nome di gesù amen il quinto passo per l'eternità consiste ora nel confessare che gesù è il vostro signore la vita eterna significa qualcosa di più di solo ricevere significa anche dare per mantenere la propria fede bisogna anche condividerla con gli altri a parole per esempio la bibbia ci dice se confessi con la tua bocca il signore gesù e credi nel tuo cuore che dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato poi dice col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza confessare gesù come nostro signore significa scegliere di seguirlo ogni giorno cristo detto chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua amici ricordate che seguire gesù è un cammino costante una relazione d'amore se inciampate e cadete sulla strada non scoraggiatevi la sua promessa non ti lascerò e non ti abbandonerò chiedete aiuto dio vuole liberarvi dal peso della vita di peccato e di colpa dio vi ama così tanto che ha amato suo figlio gesù che volontariamente si è caricato il peso dei vostri peccati cristo è morto affinché voi possiate vivere vivere per sempre lasciate che vi liberi ora del peccato e sperimentate la pace vera e duratura voglio offrirvi un regalo gratuito per rafforzare il vostro nuovo rapporto con gesù e ora condividete questo dono della vita eterna con molti altri condividendo questo video grazie 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 grazie